Ciao, sono Westy! Avete anche voi un cane come me in famiglia? Se la risposta è sì, saprete ormai quasi tutto su di noi. Eppure, sono sicura che qualche volta capite anche a voi di dimenticare di mettere in pratica quelle piccole ma fondamentali regole per il nostro benessere. Ad esempio, l'importanza del sonno. Sapete che un cucciolo deve dormire dalle 17 alle 21 ore e un adulto dalle 14 alle 17 ore? Non svegliateci all'improvviso solo perché avete voglia di stare con noi. Il riposo è essenziale. Sicuramente ci portate a spasso tutti i giorni. Ma vi ricordate di non guardare tutto il tempo il cellulare mentre lo fate e di non tirare in continuazione il guinzaglio solo perché siete di fretta? Lasciarci il tempo di adusare e fare esperienze durante la passeggiata ci aiuta a crescere sani e sereni. Dedicate almeno 5 minuti al giorno a giocare con noi. Anche quando non siamo più cuccioli il gioco continua ad essere importante. Possiamo fare il tirebolla, rincorrerci, giocare a nascondino oppure potete nasconderci nei golosi premi e metterci alla prova come in una piccola caccia al tesoro. Vedrete, sarà divertente anche per voi. Ricordatevi di lasciarci sempre a disposizione dell'acqua fresca. Sapete che in estate l'acqua va cambiata almeno 3 volte al giorno? Noi cani, poi, non siamo tutti uguali. Ognuno di noi ha una sua personalità e non è detto che quello che piace a voi piaccia anche a noi. Avete mai pensato a come ci sentiamo quando ci trascinate in qualche vostra attività? Infine, come voi avete le vostre simpatie, anche noi abbiamo le nostre preferenze. Non aspettatevi che andiamo d'accordo con tutti i cani. Ma di tanto, mettetevi nelle nostre zampe. Vivremo tutti più felici.